La lotta per il mercato indiano del trasporto auto si fa sempre più serrata. Uber, l'app che connette autisti e passeggeri, ha fatto causa a Ola. L'azienda americana accusa la rivale locale di aver creato 90.000 account falsi e di averli utilizzati per fare centinaia di migliaia di finte prenotazioni, andate poi rigorosamente a vuoto. La richiesta all'alta corte di Nuova Delhi, un'ingiunzione e danni per oltre 6,6 milioni di euro. Immediata la risposta di Ola, accuse false, un tentativo dicono di distogliere l'attenzione dal fatto che Uber in India sta perdendo la corsa.